Ciao, sono Chiara, ho 20 anni, studio da due anni di turistrutenza a Teramo e quello che mi aspetto dalla politica, quello che vorrei è legalità, trasparenza, onestà e soprattutto un impegno sincero e continuo. Io penso che anche in questo momento così difficile, in questo momento che stiamo attraversando di crisi, noi giovani abbiamo tutto il diritto di poter chiedere alla politica degli strumenti necessari per affrontare la nostra vita, per affrontare quello che sarà il nostro futuro lavoro. Però dobbiamo renderci conto che questo cambiamento deve avvenire prima di tutto da qui, dalle nostre città, dai nostri comuni, dalla nostra regione e per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di una persona onesta e competente come Carlo Costantini. Io voglio chiedere ai giovani, soprattutto ai giovani che come me affrontano degli studi universitari e quindi sanno quanto costa l'istruzione, sanno quanto ci si deve impegnare per lottare per un futuro dignitoso, voglio chiedere a tutti i giovani di aiutare Costantini e di credere nella persona di Carlo Costantini, nella sua onestà e nella sua competenza. Per questo vi chiedo aiutiamolo nella campagna elettorale, conosciamo il suo programma e informiamoci su ciò che ha intenzione di fare per cambiare l'Abruzzo, per migliorare la nostra regione. Grazie.